Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sai perché abbiamo fatto questo video? Perché è... No, 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 non svelare la sorpresa, guardate C'è bollino, no, dite che può essere Doppio booo, doppio booo Wow Per questo 10 mi piace E non solo E non siete iscritti al canale Iscrivetevi con la campanella E commentate Se mi vuoi accapitare un doppio booo Ecco, è morto Che fortuna Dai, dai, adesso arrivo io, adesso arrivo io No, non viene Oh, mi aiuti, mi aiuti Mi aiuti, compagni, mi aiuti Guarda, a me muore con Uno dei sei, un bull dei sei power up E lui con dieci power up E non ve l'ho detto Ma oggi sono in compagnia di mio cucino Tommaso No, 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 non farlo, non farlo Aspetta, aspetta Aspetta Su, qua, qua Dovai, dovai, dovai Dovai, dai, dai, dai Sì, grande Guarda, metto sei bombe lì, eh Sei bombe Sei bombe, sei bombe, sei bombe Sei bombe Troppo forti sei bombe Troppo forti sei bombe Easy victory Proviamo a continuare con lui Se vuole gli accettare No, 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 no Ciao ragazzi Continuiamo Qua, qua перce roto E se vuole gli accettare Guarda